Era il 10 gennaio, eravamo esattamente qui alla frazione Buccella con i Buccella Runners. Ci siamo fatti un nodo al fazzoletto, questa volta un po' polemico, perché mi trovo con la presidente dei Buccella Runners, Lorenza Bianchi, perché ci spiega esattamente cos'è successo con i cartelli colorati che avevate appeso. Certo, ciao Simona, grazie. Dunque, in questo ultimo periodo la Buccella è sicuramente molto più trafficata rispetto al solito. Stanno succedendo delle cose un po' strane rispetto ai nostri cartelli che noi mettiamo semplicemente come motivazione alla corsa, alla camminata, allo stare all'aria aperta. Stanno ben cinque anni. Sì, è dal 2015 esattamente che noi come gruppo a Vigevano abbiamo iniziato a mettere i cartelli in Buccella in occasione della nostra prima San Lorenzo Run che facciamo sempre in Buccella. Perché voi siete un'associazione, puntualizziamo. Sì, sì, assolutamente. Noi siamo un'associazione registrati normalmente. Abbiamo un consiglio direttivo e abbiamo degli atleti iscritti alla federazione e tesserati con noi. E ultimamente i nostri cartelli o spariscono o vengono vandalizzati. La cosa molto strana per cui ci siamo posti questa domanda è stata che fastidio noi possiamo dare con dei cartelli che vogliono semplicemente motivare allo sport, all'aria aperta e allo stare bene. Soprattutto perché alcuni cartelli sono stati tagliati proprio nel logo Buccella Runners. Non sono stati solo in alcuni casi strappati, trovati nei fossi o spariti del tutto. Proprio questo cartello che è stato poi ripristinato era stato tagliato, ma tagliato con una forbice. Quindi qualcuno si è preso la briga di venire qua con una forbice, tagliare il logo e andarsene. Boh, magari si è appeso il nostro logo in camera da letto. Bene, allora lanciamo questo appello e speriamo che non succeda più. Perché se no noi ritorniamo. Certo, noi speriamo che non succeda più. Noi comunque teniamo sempre in ordine la zona. Se un cartello si rovina, il vento, la pioggia, comunque lo togliamo. Non lasciamo nulla in giro, anzi facciamo anche delle segnalazioni quando purtroppo troviamo del rudo in giro e chiediamo a SM se cortesemente possono venire a recuperarlo. Grazie, grazie mille. Grazie a voi.